4 giugno 1944. Roma viene liberata da truppe americane della Quinta Armata, comandate dal generale Clark. Il Regno del Sud è finito. Il re firma il decreto di luogotenenza a favore del principe Umberto, con il consenso del Comitato di Liberazione Nazionale e della Commissione Alleata di Controllo. Per la Repubblica di Salò, la caduta di Roma rappresenta un colpo mortale. Mussolini, in un discorso radiofonico, esorta la popolazione a combattere l'invasore anglo-americano.